Bene si ragazzi Purtroppo Mi si è Resettato EPC Ora vi spiego ragazzi in 3 minuti Giusto perchè è tutto Insomma il tempo di registrazione che ho E intanto ragazzi sto registrando con una cosa Guardate guardate Appoggio qui Guardate Perchè è tipo una cosa che mi ha regalato Un mio compagno, un mio amico Che già mi lo ringrazio che è tipo Un treppiedi però lo tengo in mano così E ragazzi praticamente per il cellulare Questo sarà un editing video Perchè ragazzi praticamente avevo un problema Al computer E mio zio ha cercato di risolverlo Purtroppo ha cambiato un'impostazione nel PC E essa Praticamente ha riavviato il PC Non me l'ha fatto riavviare C'erano dei problemi, ho provato a fare in tutti i modi Seguite la mia pagina Facebook Seguite la mia pagina Facebook Per essere già di Assolutamente attenzione a guardare Perchè vi dico tutto quello che è successo e tutto Comunque ragazzi a parte questo Appunto con questa Non riuscivo più a riavviare il PC Ho provato tante cose E alla fine ragazzi dopo Estremi tentativi Dopo tre ore di tentativi Lì col mio zio Ho deciso appunto di Smettere di tentare Tanto era assolutamente inusile E di portare il PC in assistenza Una volta portato in assistenza Mi hanno aggiornato il sistema Windows 10 Io pensavo di averci avuto Windows 10 Invece era Windows 8 Io non lo sapevo Comunque meglio per me Mi hanno aggiornato a Windows 10 E ora Ragazzi praticamente Guardate Non è che vi sto dicendo cazzate Non so se si vede Praticamente mi ha Resettato Tutto Non posso neanche registrare quella webcam Perché praticamente mi ha Resettato pure Il programma E quindi per ora col cellulare Quindi ragazzi Io ho tutto perso Quindi Vi devo dire Purtroppo Io Il titolo L'ho messo Perché Voi Mi dovete ridare È qui che si vedono i vari iscritti Voi Mi dovete dare Con tanti simbolici su Insomma Con un bel sostegno La voglia di ritornare A registrare i video E la voglia Per insomma Riscaricare tutti i programmi E ricominciare Nuove serie Perché ragazzi Ovviamente la serie di Minecraft Moddata La Tomicraft A puttane va Scusate il termine Però Regà non ho più Minecraft Non ho più niente Quindi Il salvataggio del mondo È andato via Quindi manco quella Poi Pokémon Tutte le miniature Tutti i video Erano lì E regà ho perso tutto Quindi anche quella serie di Pokémon Regà Mi dispiace Io non me la sento Di rifare tutta la miniature E tutto Perché Davvero No Assolutamente Ma è una cosa Che neanche penso Perché È improponibile È improponibile Quindi anche quella È andata via Perché avevo tutti i video Già fatti Che dovevo solo esitarli Però mi si è allineata tutta Quindi La serie non potrebbe Continuare lo stesso Quindi va bene E quindi ragazzi Io vi dico a voi Volete Volete che io Continui a fare i video Scrivetemelo sotto Nei commenti Scrivetemi le serie Che vorreste vedere Se volete Ora Ristallo Minecraft Se volete Una vanilla Magari con le shader mod Una vanilla Un qualsiasi gioco Anche ovviamente Il pack opening Sul gioco di carte Collezionabili online Mi si è disinstallato Per quello Devo ristallinare Sono di Vegas Tutti questi Quindi ragazzi Scrivetemi le serie Volete che porto Minecraft Volete che porto Altri giochi Ditemelo Grazie a tutti